Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Edoardo Tavassi, la ex Diana del Bufalo insieme ad un'altra persona, ecco chi Edoardo ex Diana compagno.Sicuramente è uno dei personaggi più chiacchierati dell'isola dei famosi, parliamo infatti del simpaticissimo Edoardo Tavassi Il concorrente dell'isola infatti da quando è entrato nel programma non sta facendo altro che parlare di sé Molto spesso infatti il concorrente si è reso protagonista di diversi litigi con i naufraghi e non solo Sono riaffiorati anche dei risentimenti con la sorella Gwendalina Tavassi risolti ovviamente fin da subito Con l'entrata della bellissima Mercedes Anger pare che il giovane romano abbia fissati gli occhi sulla ragazza Al momento nulla che faccia pensare ad un flirt tra i due anche se la giovane ragazza sarebbe entrata proprio con l'intenzione di conquistare il romano Sta di fatto che Edoardo prima di entrare a far parte dell'isola aveva una relazione con un'attrice molto amata, parliamo infatti della simpaticissima Diana del Bufalo Edoardo Tavassi.Edoardo, la ex già con un altro punto come in tanti ricordano, la bella Diana è riuscita ad avere successo grazie alla partecipazione ad amici Si è fatta spazio nel mondo della recitazione e nella musica riscuotendo un discreto successo La ragazza è stata spesso sulla bocca del gossip anche per la relazione avuta con il conduttore Paolo Ruffini durata per diverso La loro relazione si è interrotta dopo diversi anni ma pare che Diana abbia trovato una spalla su cui piangere con Edoardo Tavassi I due infatti sono stati insieme solo per un periodo ridotto Diana del Bufalo.Ovviamente Diana però ha deciso di cercare ancora l'amore in un altro uomo Durante una diretta sui social si sarebbe fatta scapare di essere fidanzata con un ragazzo inglese In realtà secondo diverse indiscrezioni, il giovane in questione sarebbe un fotografo australiano e lavora a Los Angeles I due avrebbero passato del tempo insieme in questi giorni Il ragazzo si sarebbe trovato a Roma tra il 10 e il 14 settembre dove secondo alcuni avrebbe conosciuto la bella Diana del Bufalo Secondo alcune foto e video, molto probabilmente i due in quel periodo avrebbero passato del tempo insieme Ma non abbiamo delle certezze su questo Molti dei post pubblicati in quel periodo fanno presupporre che il giovane sarebbe legato all'Italia e forse anche a qualcuno Solo pochi giorni fa la ragazza avrebbe finalmente confessato che il suo cuore è attualmente impegnato Ovviamente non possiamo che augurare all'attrice che questa sia la volta buona Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video Ciao